La relazione tra uomo, paesaggio e territorio è la chiave di lettura della nona edizione di Cortona on the Move, il festival internazionale di fotografia presentato nella sede della presidenza della regione toscana a Firenze dalla vicepresidente Monica Barni. Dall'11 luglio al 29 settembre Cortona ospiterà decine di mostre ed incontri tra il centro storico e la fortezza medicina del Girifalco per approfondire il valore del linguaggio della fotografia. Un linguaggio che è anche molto vicino a diversi pubblici ma in particolare al pubblico giovanile che è sempre più restio alla partecipazione culturale quindi insomma per noi è molto importante presentarlo qui oggi perché appunto rappresenta un esempio importante di come si fa cultura e come si fa partecipare la popolazione alla cultura. La direttrice artistica del festival Arianna Rinaldo ha ricordato come la parola dell'anno sia ambiente da cui la scelta di dedicare all'uomo e al paesaggio il tema dell'edizione 2019 del festival. Questo include appunto non solo la crisi ambientale ma anche le tracce della storia nel territorio, gli interventi dell'uomo nel bene e nel male sul territorio. Molto ricco il programma delle prime giornate della manifestazione con la presenza a Cortona di artisti ed esperti di rilievo sia nazionale che internazionale del settore della fotografia.